No, dico, oggi facciamo un altro evento, facciamo sopravvivenza. Facciamo quello dove si gioca in due persone. Oppure vuoi fare il roboassalto? Quale vuoi fare due? Uno facile. Eh, non lo so, io non ne conosco. Facciamo sopravvivenza, proviamolo. Sei pronto? Sì, sono pronto. Però non so che siamo contro, siamo insieme. Quale è il problema? No, no, a squadre, ok, noi a squadre, è bellissimo. Quindi stiamo assieme. Sì, sì. Se rompi le casse ci potenziamo praticamente. Dobbiamo ammazzare tutti quanti. Ma non c'è nessuno. Sì, ci sono. È che stanno spaccando anche loro le casse e ci stanno ammazzando. Squadra di master è 5, se leggi sopra. Vedi, vedi che c'è... Occhio, occhio! Che niente ci spugli, ce n'è uno. Anche di qua, anche di qua! Scappa, scappa, Giorgi! Scappa, scappa, scappa! Ammazza questo, ammazza questo! Ok, ok, buono, buono. Aiutami però, Giorgi, aiutami! Sto sparando! Ma è me che lo amazziamo, è me che lo amazziamo, ok, ok. Segui me, segui me, segui me che stai morendo, segui me! Sto seguendo. Ok, ok, è buono. Squadra di master è 3. Occhio che c'è un altro qua, c'è un altro di qua. Due, due, ce ne sono due, ce ne sono due. Ok, uccisi, uccisi, uccisi! Oh, manca solo una squadra. Se la uccidiamo, vinciamo, eh. Vai, andiamo, andiamo a spagassarli. Vai, 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 vai! Sì! Grande, Giorgi! Eh, li abbiamo massacrati, mamma mia! Che squadrone! Ma qua non c'è il migliore. Eh, io e te sono i migliori, penso. Ah, ok! Eh, praticamente, gli ultimi che rimangono in vita, vincono. E l'altro che vuole evitare è quale che era? Robo Assalto. E qual è quello dei robot? Io non ce l'ho. Eh, l'abbiamo fatto l'altro giorno, non ti ricordi? No, qual era? Ah, quello lì che praticamente c'è una cassa in mezzo, arrivano i robot e vogliono distruggerla. Ah, no, no, quello che abbiamo fatto ieri. Io metto questo, che praticamente ti do l'energia. Dobbiamo sparare solo a cassaforte. No, dobbiamo uccidere i robot, non devi sparare a cassaforte. I robot che arrivano, se non so dove sono. Eccoli qua. Ecco, 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 ecco. Io praticamente vi faccio la supporta, ti do l'energia quando arrivano quelli grossi. Occhio, anche questo. Ah, ma questi sono ancora piccoli. Poi ti ricordi che arriva quello enorme che ci massacra? Sì, quello enorme enorme, enorme. Eh, sì. Occhio, occhio in alto, occhio in alto. Io intanto lo faccio a sinistra, se non muoio, eh. Ah, ma l'ho ucciso. Occhio sotto, occhio sotto, occhio sotto, occhio sotto. Arrivano, arrivano. Arrivano. L'ho trovata con le norme, è arrivata. Eh, sì, è arrivata. Vai, piccolo, piccolo. Occhio, che stai morendo, stai morendo. Annaggia. No, 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 sono morta. Eh, sì, volevo anche darti l'energia, ma sei morta prima. No, no, stai morendo di nuovo. Annaggia. Dai, ammazzalo, ammazzalo, ammazzalo. Brava, brava, brava. Un tiro pure qua. Vai, ma sei morta ancora, basta. Annaggia, l'angeremo, perdiamo adesso. Eh, ci hanno distrutto. Eh, vabbè, dai, due minuti e dieci. Eh, ci facciamo una gemmina. Dai, ma fa schifo il nostro alleato. Ammazza, ammazza, spara, risparai tu. Vai, bravi. Prendi le gemme, prendi le gemme. È pieno di gemme. Occhio dietro, che arriva. Ti difendo io quello che posso, se non muoio prima. Ah, aiuto. E sono morto, Giorgi. Vai, brava. Stai attenta, stai attenta. Arriva, arriva. Scappa, scappa da lì, scappa. Arrivo io. Tu scappa. Guarda, ti ho salvato, ti ho salvato. Ma dov'è il nostro alleato, più che altro? Ammazza questa, ammazza questa e mi hanno vinto, eh. Occhio, è andato fuori là. Giorgi, no. Torna indietro, torna indietro. Torna indietro. Dove te ne vai? Occhio, che qua tu ne hai otto. Se muori tu è finita. Ok. Dieci, vai. Dieci gemme. Ora, ora. Scappiamo ora. Facciamo i codardi, facciamo i codardi. No. No, è morta la nostra amica. Andiamo via. No. Hanno preso la gemma. Giorgio, scappa da lì. Hanno preso la gemma. Da dove l'hanno presa? Eh, dalla nostra amica, mi sa. Vai, uccidila. Manca poco, manca poco. Manca poco. No. No, pari, pari. Pari, pari. Siamo pari, siamo pari. Non morire, Giorgi. Non morire. Sei morto. Bravo, l'hai proprio perso. Non morire. Eh, ma tutte le gemme hai perso. Qual è il problema? Ma no, hai un sacco di gemme. Perché hai rischiato così tanto? Vai, vai, prendi, prendi, prendi. Prendi le gemme, prendi le gemme, prendi le gemme. Ammazza questo qua. Sì. Via, 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 via. Scappa, scappa. Difendiamo, difendiamo. No, 21. Difendi me, difendi me. Spendi il troppo spugno. Occhio, arriva la tipa, arriva la tipa. Arriva la tipa brutta. Ma che vogliamo. Ne vincono. Eh, però che fortuna, mamma mia. Dai, andiamo, andiamo. Buoni, cretino, buoni. Ma il nostro amico è quello. Che fai, picchi lui? Le picchi arlante. Vai, adesso ammazziamo questa. Ok. Chi è? Sono io. Pronto? Vittoria. A 500 mi sblocca Jesse. Eh, anche a me. Manca poco, sblocco Jesse. Poi se vai più avanti, c'è una cassa enorme a 650. Ciao amici di YouTube. Al prossimo video.